Dopo l'approvazione definitiva della legge finanziaria 2017, anche per quest'anno è arrivata la già annunciata proroga dei contratti individuali di lavoro, tempo determinato e part-time di 22 LSU e LPU in servizio presso il comune di Monasterace. 22 ragazzi che hanno firmato, dopo apposita delibera di giunta, il contratto con validità un anno dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2017. Il Governo garantirà per le figure lavorative in questione per la Regione Calabria oltre 50 milioni di euro e il resto spetteranno alla Regione in quello che è l'ultimo dei tre anni di contrattualizzazione previsti per la stabilizzazione definitiva dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità calabrese. I lavoratori di Monasterace firmeranno un contratto che varia secondo dell'esigenza dell'ente da 18 ore a settimana fino a 30 ore settimanali e avranno funzioni diverse. Ancora da stabilire cosa accadrà dal 1 gennaio 2018 dove partirà la stabilizzazione ma difficilmente queste figure potranno rimanere tutte nei comuni, situazione dunque tutta da valutare.